Una festa aperta a tutta la città con la partecipazione di chef di prestigio per celebrare il ritorno nei negozi e nei supermercati della pasta Antonio Amato. Sarà presentato lunedì mattina al comune di Salerno il piano messo a punto dalla Dicado, la società creata dal pastificio di Martino di Gragnano, che ha rilevato marchio e stabilimento della zona industriale con la formula del fitto per il rilancio della storica azienda del capoluogo. Tra i principali produttori italiani, con quote di mercato importanti anche all'estero, l'Antonio Amato ha ripreso la produzione soltanto nella scorsa estate, destinandoli inizialmente ad alcune commesse straniere del gruppo di Martino, dai paesi asiatici al Sudafrica. Ora però è tutto pronto per il ritorno delle classiche confezioni blu con il logo Amato, che ricorda i colori della città di Salerno, con in primo piano anche il follaro, antica moneta normanna, coniata nel capoluogo all'epoca di Roberto Il Guiscardo. Da qualche giorno è partita la campagna pubblicitaria, che ha puntato per i manifesti alla Salernitanità, invitando a ripartire da Salerno con la pasta Antonio Amato. Proprio per questo motivo la Di Martino ha scelto di presentare il programma completo del ritorno sugli scaffali al comune di Salerno. Lunedì mattina il responsabile del gruppo Giuseppe Di Martino sarà a Palazzo di Città con il sindaco De Luca. Tra le prime iniziative che celebreranno il ritorno sul mercato, una grande festa della pasta il 18 ottubre al Parco Mercatello.